Ciao a tutti, perché i tabù sessuali, i nostri tabù sessuali, costituiscono le nostre fantasie sessuali? In questo video voglio spiegarti che correlazione c'è tra tabù, cioè un qualcosa di proibito, e le fantasie di natura sessuale, e come utilizzarli nella seduzione. Prima di affrontare questo tema, però, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e ti ricordo che ti puoi abbonare al canale, abbonandoti potrai partecipare ad apposite live mirate dove potrai ricevere delle risposte precise alle tue domande. E veniamo dunque al tema. Perché i tabù sessuali costituiscono le tue fantasie sessuali? Qual è il legame tra queste due, diciamo, situazioni? Allora, le persone normalmente parlano anche da un punto di vista sentimentale-affettivo dei loro sogni, di ciò che hanno, di quelli che sono i loro bisogni. E quindi il sogno, diciamo così, rappresenta quello che manca fondamentalmente. E della stessa differenza che c'è tra sognare e dormire, tra le fantasie sessuali e la vita sessuale reale. Il sogno rappresenta la fantasia sessuale. Sono vari scenari che noi possiamo immaginare che rappresentano un desiderio e rappresentano poi la vita, come dire, immaginativa. Mentre la vita reale, sessuale, può essere completamente diversa. E quindi esiste sempre una distonia, c'è un concetto di distonia tra il reale e l'immaginario. Su cosa si innestano queste fantasie? Beh, le fantasie, essendo trasgressive, si innestano inesorabilmente e inevitabilmente sui tabù. I tabù sessuali che cosa sono? Sono, diciamo, delle paure che, in un modo o nell'altro, il bambino ha vissuto a suo tempo e fanno parte, un po', diciamo, dell'imprinting, anche questo. Poi sono tutte le parti che sono state comunque rimosse. Diciamo che le fantasie sessuali rappresentano una sorta di ritorno del rimosso che, rispetto al tabù vero e proprio, può essere edulcorato, leggermente modificato, vissuto in modo simbolico. Ecco, potremmo dire che la fantasia rappresenta un simbolo del ritorno del rimosso. Il rimosso, quello che è stato rimosso, il tabù, rappresenta, porta imbarazzo, porta vergogna, porta qualcosa di non accettabile, che però, diciamo, dall'altro punto di vista attrae. E quindi la fantasia è, diciamo, la rappresentazione simbolica dei nostri bisogni e dei nostri desideri più profondi. Quali sono i tabù sessuali? Beh, i tabù sessuali possono essere tantissimi, ma, diciamo, ce ne sono alcuni che sono più frequenti degli altri. Ripeto, non è che possiamo decidere, come dire, a livello logico che il tabù sessuale viviamo. Le statistiche, comunque, ne trovano, ce ne sono cinque, che sono più frequenti. Poi ognuno, comunque, potrà capire o meno se ha questi o se non ha questi. E, ripeto, questi tabù vengono fuori attraverso delle fantasie che sono il tabù mascherato, diciamo così. Talvolta più mascherato, talvolta meno mascherato. La forza della maschera dipende da quanto forte è il tabù, diciamo, e da quanto forte è il meccanismo di difesa che governa la fantasia sessuale. Allora, possiamo dire che la fantasia sessuale è una modalità più o meno accettata dalla sfera logico-razionale di vivere il tabù in qualche modo, di vivere questa cosa che genera una profonda vergogna. Allora, il primo tabù è il sesso con tanti partner, quello che viene chiamato l'orge, la gangbang. Molti hanno delle fantasie, diciamo, che riguardano poter, ad esempio, il voyeurismo, essere guardati o guardate. Comunque, il sesso multi partner è uno dei tabù, spesso viene, appunto, etichettato proprio come un tabù e attraverso delle fantasie può essere, diciamo, legittimato. Oppure può essere legittimato in alcuni contesti. Ci sono persone che praticano questo in appositi contesti dove le persone, diciamo, si sentono più libere. Il secondo tabù è quello del potere, del controllo dell'altra persona, del sadismo. Molte delle persone, diciamo, che hanno seguito queste statistiche americane, hanno dichiarato di avere fantasie per il BDSM, il bondage sadomasochismo. Quindi il BDSM è molto di più del sadomasochismo, quindi fruste, catene, diciamo. Le attività del BDSM sono attività talvolta estreme, legare le persone in posizioni strane, insomma. È una combinazione di piacere, ma anche con sensazioni negative e con sofferenza. Spesso sono, diciamo, delle situazioni molto, molto, molto dolorose. E anche questo viene vissuto spesso attraverso soltanto delle fantasie. Qualche volta queste fantasie vengono replicate, qualche volta la violenza, diciamo, che sta alla base, appunto, si manifesta poi in situazioni tutto sommato ritualizzate, anche qua in ambienti, in particolari ambienti. Però ci sono persone che possono diventare veramente dipendenti da questo tipo di pratiche, cioè non riescono più a praticare, diciamo, la sessualità senza arrivare a questo tipo di situazione. Un altro dei tabù è quello della sessualità con uno sconosciuto, fondamentalmente, o una sconosciuta. Ecco, questo è un'altra cosa, è un'altra fantasia probabilmente legata a un vissuto, legato proprio magari alla riproduzione. La canaglia che arriva da lontano porta un patrimonio genetico diverso e quindi più probabilmente è utile per una riproduzione che dia luogo a una progenia robusta. Questo viene spesso appunto vissuto come fantasia e spesso però ci si innamora magari di persone che con noi non c'entrano assolutamente niente andando contro al proverbio popolare moglie buone dei paesi tuoi che ha, diciamo, il suo significato. Un'altra delle fantasie è quella del poliamore, cioè avere una relazione aperta oppure guardare il proprio partner e fare sesso con altre persone. Ecco, questo è un'altra cosa molto, diciamo, molto interessante che si sviluppa spesso anche qua in appositi contesti dove si incontrano persone che hanno più o meno lo stesso tabù e quindi possono sviluppare la stessa fantasia in appositi contesti. E per finire vi sono, diciamo, il tabù del superamento della propria identità sessuale, quindi il cambiare identità di genere oppure il proprio orientamento sessuale, quindi fantasie che possono essere di travestitismo o di omosessualità che vengono considerate tabù perché non manifestate. E quindi anche qua ci possono essere poi delle fantasie legate ad esempio a fare sesso con trans, travestiti, cose di questo genere che in qualche modo concilia le due possibilità, le due sessualità concentrate in una. Ecco, queste sono le cinque tabù e le cinque fantasie più diffuse ovviamente poi ognuno ha le sue ma è importante capire che la fantasia è praticamente la versione mascherata del tabù che invece è l'energia che alimenta la fantasia stessa. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo che ti puoi abbonare al canale abbonando ti potrai ricevere delle risposte precisa e mirata alle tue domande. Ciao a tutti.